Grazie Pronti per il via nella gara dei 5.000 metri Grazie Grazie 600 metri Al Saggio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Forza Robi. ...e categorie da premiare, cadetti naturalmente i primi tre uomini e le prime tre. Giada per Nelbella, peso cadette. Per i cadetti, salto i primi... ...e che preghi... 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 ...e queste sono le nostre prime tre atlete. ...e che preghi... ...e che preghi... ...e che preghi... ...e che preghi... ...che stanno completando... ...si stanno completando gli arrivi della gara dei 5.000... ...andremo a premiare tutte le categorie dentro le 1.000... ...e che chiediamo di portarti qua... Tutte le categorie sono tutte premiate, la parte femminile che è la parte maschile allievi in questo caso, quindi tutta la parte femminile dei 3.000 e anche la parte maschile in zona podio per la premiazione che andiamo a premiare, tutte le categorie sono distribuite precisamente per le varie categorie e quindi sarà il premio per tutti. E' stato un giro in più. E' stato un giro in più. E' stato un giro in zona podio per la premiazione dei 3.000. L'ha strappato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.